Lo dico perché la proposta di un'elezione diretta del Capo del Governo, a ben guardare, non è una proposta di destra e non è una proposta di sinistra. È una proposta che, pure con accenti e soluzioni diverse, è stata sostenuta in modo assolutamente trasversale, anche da quelle culture politiche che ora ne parlano come se fosse la spia di un disegno intimamente autoritario. Oggi leggo di leader politici che parlano di fermare la riforma con i loro corpi e non so se la devo leggere come una minaccia o come una sostanziale mancanza di argomentazione nel merito, però è difficile, faccio riferimento a Professor Crementi quando diceva il dialogo certo, anche io preferisco e farò quello che posso fare per lavorare a una riforma che abbia un consenso più ampio, ma quando la risposta è la fermeremo con i nostri corpi, professore, diciamo la vedo dura, nel senso che se si ponesse una questione di merito io posso nel merito rispondere, se si dice frapponiamo i nostri corpi, diciamo il merito è un po' più difficile e quando arriva questo genere di dibattito le scelte sono solo due, gettare la spugna o proseguire? Gettare la spugna è fare quello che è accaduto in tutti questi anni e quindi lasciare che il sistema rimanga quello che è con gli italiani che lo pagano, poi ci arrivo, oppure secondo quello che i padri costituenti hanno previsto lasciare un'altra possibilità perché è vero che la Costituzione, diciamo i padri costituenti preferivano una riforma approvata ai due terzi della maggioranza parlamentare ma non hanno escluso che questo non accadesse, cioè capivano anche lo stallo che poteva venire dalla tattica politica sulla riforma costituzionale e io penso che di fronte alla tattica politica il tentativo di chiedere agli italiani che cosa pensino di questa proposta che viene fatta per loro debba essere se non si riesce a approvare la riforma con i due terzi del Parlamento debba essere esplorata, del resto certo che è sempre meglio non arrivare a un referendum divisivo sulla Costituzione ma mi corre l'obbligo di ricordare che la Repubblica è nata su un referendum divisivo, molto divisivo e è nata e è stato un bene quindi è la democrazia e i padri costituenti hanno previsto che questo potesse essere un modo per fare ciò che i cittadini a maggioranza condividevano anche quando le forze politiche non erano d'accordo a stragrande maggioranza.